Perché adesso è il momento di prendere la forma di un ritorno Voglio vedere i veri Headbangers Voglio vedere le teste muoversi Come on! 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 And I I was born Your faces have crossed my face The ways of my memories On an altruism in real life Watch out loud to embrace the light The echo of trembling voice A shining breath And myself A desire of my heart Ready Immersion Assets For us Anthem is The last Assets Of our hearts Nothing's right to the endless glitter Of his heart again The only way now we miss the soul of life Il nostro corso gratuito, il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 a via la fia